Buongiorno, oggi è martedì 6 febbraio, eccoci al nostro appuntamento della mattina con la rassegna stampa. Diamo insieme uno sguardo agli argomenti pubblicati quest'oggi dai quotidiani e iniziamo con la prima pagina del Corriere della Sera. Corriere della Sera che si sofferma sulla protesta degli agricoltori. Agricoltori verso Roma, dovete ascoltarci. Fiorello e Amadeus li invitano al festival. Poi qui vediamo nel dettaglio l'articolo, continua quindi la protesta degli agricoltori, che punta verso Roma. Annunciano una grande manifestazione nella capitale per cercare di vedere accolte le loro richieste. Si lamentano per il peso fiscale e i pochi aiuti. Il governo afferma di avere fatto tutto il massimo. L'opposizione però incalza, mentre dal festival di Sanremo con Amadeus e Fiorello arriva l'invito agli agricoltori a salire sul palco dell'Ariston. La RAI però frena. Questa è la situazione al momento. Poi vedremo anche quali saranno gli sviluppi nei prossimi giorni. L'altra notizia, l'altro titolone in prima pagina, è strettamente politico. Premier cambia la riforma. Meloni accetta le dimissioni di Vittorio Sgarbi. Lui conferma il ricorso al TAR. Cambia quindi la riforma sul premierato. Trovata l'intesa nella maggioranza sulla norma antiribaltone. Intesa nella maggioranza sulla norma antiribaltone. Pioggia di emendamenti da parte delle opposizioni. Arriva una pioggia di emendamenti. Soddisfatta nel complesso la premier Giorgia Meloni, che da Tokyo commenta, saranno i cittadini a decidere da chi devono essere governati. Questa è la madre di tutte le riforme. Accettate le dimissioni di Vittorio Sgarbi. Notizia anche dall'Inghilterra. Buckingham Palace. Impegni rinviati per le terapie. Re Carlo ha un tumore. Shock in Gran Bretagna. Shock nel Regno Unito. Re Carlo ha il cancro. La scoperta durante il recente intervento alla prostata. Già iniziata la terapia. Rinviati quindi tutti gli impegni pubblici previsti dal sovrano. Vediamo il Corriere Fiorentino. Il Corriere Fiorentino si sofferma in particolare nel titolo di apertura, nel titolone, sulla scomparsa del professor Paolucci. Se ne va Paolucci, fondatore del Polo Museale, oppositore della mercificazione di Firenze. Ex ministro, grande divulgatore, ha diretto anche i musei vaticani. Gli uffizi intitolano l'auditorium, oggi i funerali. E a questo proposito dobbiamo dire che il professor Paolucci ha avuto anche un rapporto piuttosto stretto con la città di Arezzo. Ci sono vari aspetti che lo legano, tra i quali anche uno artistico. Nel 2008 un giovanissimo Fabio Migliorati organizzò con il soprintendente la mostra di Avey Marine, le cui enorme teste campeggiarono anni dopo in piazza Guido Monaco per Icastica. Vediamo insieme il servizio. Il critico d'arte Fabio Migliorati ha un ricordo particolare di Antonio Paolucci. Poi hai fatto una mostra con Paolucci. La mia prima grande mostra è stata con Antonio Paolucci. Abbiamo scritto insieme in questo testo una mostra che poi è andata, era il 2008, in giro per l'Europa, ma davvero in 7-8 capitali europei. Una mostra del lavoro di un artista, uno scultore messicano, Javier Marine, che poi arriva anche a Di Castica nel 2014 mi pare, che arrederà i giardini di piazza Guido Monaco. Ce lo ricordiamo, quelle teste bellissime. Erano teste cavalieri. Infatti questa mostra si intitolava The 3 and 3, una mostra molto profonda che mi fa ricordare Antonio Paolucci con un po' d'emozione perché lui era un personaggio molto rigoroso e mai sopra le righe che però è proprio in questo offriva al pubblico il suo lato più puro. Lui credeva nella scultura contemporanea in quei termini. Cioè per lui era uno storico dell'arte che apprezzava l'intervento storico del contemporaneo, non il fare installativo o troppo diverso dalla tradizione, dalla traccia della tradizione. Questo il ricordo del critico d'arte Fabio Migliorati. Torniamo a leggere il Corriere Fiorentino. L'ultimo saluto a Kurt Amrin, l'ultima volta di Uccellino nel suo franchi. Uccellino è il nome che gli era stato dato proprio a Firenze. Vediamo il dettaglio. La fotografia che testimonia appunto il ricordo che i tifosi della Fiorentina gli hanno voluto tributare. Sono stati in tanti che ieri pomeriggio hanno voluto rendere omaggio a Kurt Amrin presso la camera ardente allestita all'interno dello stadio Franchi. Ex calciatori, amici ma anche tanti fiorentini a salutare il grande campione che aveva scelto di vivere a Coverciano e che è morto domenica a 89 anni. Ciao Uccellino. Vediamo La Nazione, cronaca di Arezzo. Si parla ancora della protesta dei trattori e ancora dell'intervento, dei prossimi interventi della provincia sui ponti delle strade appunto provinciali. Piano di emergenza della provincia, 56 interventi complessivamente in vista, 97 su 771 le strutture da tenere sotto controllo. Questo è un po' il punto della situazione che è stato fatto. E a questo proposito possiamo anche vedere insieme il servizio filmato perché come detto la provincia lancia il progetto Ponti Sicuri, riguarda 56 ponti su strade di competenza dell'ente per un investimento complessivo di 25 milioni di euro. A essi si aggiungono i 21 milioni in arrivo per il ponte definitivo sulla via dei Sette Ponti a Ponte Buriano. Interventi della provincia di Arezzo su 56 ponti per 25 milioni di euro, oltre a 21 milioni di euro in arrivo per il ponte definitivo di Ponte Buriano. Con questo impegno la provincia lancia il progetto denominato Ponti Sicuri. Si tratta di un piano di monitoraggio e messa in sicurezza di ponti esistenti nelle strade di competenza. Per la prima volta la provincia di Arezzo fa un cronoprogramma dei lavori mettendo insieme quelle che sono le priorità. Ricordiamo la provincia ha 1200 chilometri di viabilità. Ecco noi abbiamo individuato delle classi di rischio. Ci saranno circa 23 milioni di euro per 53 ponti su cui interverremo nel triennio 24, 25 e 26. Presidente, una valutazione conclusiva per un argomento che in fondo rimane di stretta attualità, il futuro di Ponte Buriano. Allora noi abbiamo già questa mattina arrivato a notiziato la regione toscana e il Presidente Gianni ci ha già confermato per la data del 12 febbraio a Firenze la conferenza stampa. Daremo questa grande notizia, questa bella notizia perché arriveranno a breve 21 milioni di euro e per la prima volta il territorio provinciale in accordo con il Governo siamo anche qui riusciti a individuare quelle che sono le priorità. Dunque queste risorse FSC dunque del Fondo di Coesione e di Sviluppo non andranno disperse in mirre rivoli ma la gran parte verranno attenzionate e destinati in un'opera importante e strategica da un punto di vista anche storico, identitario che è quella di Ponte Buriano. Torniamo a leggere insieme la cronaca di Arezzo della Nazione, ovviamente anche in cronaca di Arezzo si parla della manifestazione degli agricoltori, trattori di rabbia alle porte di Roma, marcia sulla Cassia fino alla meta, a bordo cibo e bevande per il viaggio, il fronte degli agricoltori è partito alle 7 dal casello Valdichiana con un centinaio di mezzi che avanzavano al rallentatore. Intorno la morsa dei controlli per impedire tensioni, i rifornimenti delle famiglie alla manifestazione, questa fotografia che illustra un momento della protesta. Poi ovviamente vengono ripresi gli argomenti anticipati in prima pagina, ci sono anche ovviamente le iniziative che vengono portate avanti dalla Nazione, in particolare uno spazio riservato ai giovani e all'economia e quindi anche riferimento ad alcune aziende importanti del territorio. Dal Valdarno leghe preziose dai rifiuti elettronici nasce il polo di recupero dei metalli, questa notizia di fatto è stata anticipata da una conferenza stampa in regione, presentazione del nuovo impianto che sorgerà a terra nuova, quindi ci saranno anche nuove prospettive evidentemente dal punto di vista occupazionale se vogliamo e quindi dalla Valdichiana bandiera arancione è record perché Lucignano colleziona 19 titoli onorati per la riconferma. Il sindaco Roberta Casini, presente alla cerimonia di consegna del riconoscimento, premiata l'amministrazione che ha promosso negli anni numerose attività ed eventi e questa fotografia testimonia appunto il riconoscimento che è stato ancora attribuito a Lucignano. Vediamo le altre notizie, ovviamente ancora dai territori. Qui siamo in Casentino, Carnevale storico svela i segreti, ecco Cecco, fidanzato della Mea, da dieci anni vivo in un luogo unico. Lui si chiama, il nome è Alin Mariutto, originario della Romania, diplomato al liceo musicale, suona il pianoforte e adesso cerca un lavoro e questo in fondo anche testimonia una storia che caratterizza anche questa manifestazione. Vediamo il Corriere di Arezzo adesso. Arezzo Casa fondi all'asta, dieci immobili per attività commerciali tra cui un ex asilo. Il presidente Lorenzo Roggi afferma servono soldi. Vediamo nel dettaglio i contenuti dell'articolo. Arezzo Casa cerca soldi, ha deciso di mettere all'asta dieci immobili. Si tratta di fondi a uso commerciale e non abitativo, leggiamo insieme, che si trovano otto ad Arezzo in pieno centro e due a Cortona. Tra questi c'è anche l'ex asilo di Via della Chimera. Il locatario, prosegue il giornale, può presentare la sua offerta e il prossimo 6 marzo le buste saranno aperte. Lo dice anche il presidente Lorenzo Roggi che commenta, appunto, è sempre bene ricordare che dal primo gennaio 2023 Arezzo Casa sopravvive, afferma, solo con i denari che riesce a introitare tramite gli affitti percepiti. Vediamo le altre notizie, ovviamente la marcia dei trattori verso Roma. Accogliamo anche questa immagine fotografica. Un trattore in direzione della Cassia, quindi la Cassia, il passaggio dalla Toscana a Lazio da Radicofani, Acquapendente, San Lorenzo Nuovo, Viterbo e poi, appunto, la calata verso Roma. Vediamo le altre notizie qui, sempre in prima pagina. Via a Ponti Sicuri, Controlli e Lavori. Abbiamo visto gli interventi della provincia, il piano soprattutto di interventi. Vice sindaco contro trapper non è gradito. Leggiamo nel dettaglio questa notizia che riguarda la presenza di un trapper no a Simba Larue alla notizia dello spostamento del concerto da Castiglion Fiorentino ad Arezzo. È perentoria la presa di posizione del vice sindaco Lucia Tanti. Non è gradito e appunto per questo le parole sembra non lasciano spazio a dubbi o a ripensamenti. A fondo pagina si parla anche di sport con riferimento all'Arezzo. L'Arezzo che sarà impegnato il prossimo venerdì allo stadio di Pontedera. L'Arezzo è già tornato in campo via la prevendita per Pontedera, una partita comunque sempre impegnativa, quella che si gioca nella cittadina in provincia di Pisa. Vediamo all'interno come vengono ripresi e approfonditi alcuni di questi articoli. Si riparla ancora di Arezzo Casa e del futuro di alcuni immobili che saranno messi all'asta. E qui ci piace mettere in evidenza l'iniziativa della quale abbiamo parlato anche noi, la proposta del presidente dell'ordine degli infermieri di Arezzo, Grasso, che ha incontrato Antonino Cannavacciuolo. Ecco la nostra idea. Super chef per lo spot Salva Vita, per favorire appunto le pratiche di disostruzione delle vie aeree. E appunto per questo Cannavacciuolo si è reso anche disponibile a sostenere questa campagna in fondo. Super chef per lo spot Salva Vita. Ancora a Ponti Sicuri abbiamo visto la notizia, il commiato al sovrintendente Paolucci, il cordoglio di Arezzo e Sansepolcro. Ricordo di Ghinelli, un amico sincero della nostra città, le parole di innocenti sindaco di Sansepolcro che illustrano il legame che Paolucci aveva con Piero della Francesca. Davvero una grande personalità che ci ha lasciato all'età di 85 anni. Ovviamente spazio viene dato anche alla marcia dei trattori in direzione della capitale, perché è l'argomento in fondo del giorno. Vedremo anche quali saranno poi i successivi sviluppi di questa marcia. Amadeus vi aspetto a Sanremo, è la risposta del conduttore del festival ai trattoristi. Poi la protesta degli abitanti, in questo caso di Rigutino, i quali affermano che c'è la necessità di ripristinare la passerella, magari con criteri diversi, evidentemente da quella demolita. Ricordano che due mesi fa è stata buttata giù quella che evitava il passaggio dalla 71, però chiedono di intervenire, inviano una lettera di protesta al giornale, chiedono di non essere dimenticati dopo il clamore iniziale solo silenzio, affermano. Proseguiamo ancora la lettura del Corriere di Arezzo. Ci sono molte notizie che vengono anche dalla Toscana, dall'Italia e dal mondo. Vengono messe in evidenza anche alcuni aspetti che riguardano il nostro territorio, in particolare dal Valdarno, pagina iniziale della provincia e poi anche dalle altre vallate, dove i principali argomenti vengono ricordati. Bretella 1, primo lotto ok in Valdarno, a Terra Nuova, lavori di asfaltature e collaudi in corso per il ponte sull'Arno, i tempi di apertura. Si parla quindi anche in questo caso di infrastrutture, infrastrutture sulle quali vigila non solo la provincia ma anche la stessa regione e sempre da Terra Nuova, metalli preziosi recuperati dalle schede elettroniche, presentato il nuovo impianto di trattamento che sarà realizzato da IREN. Possiamo terminare qui l'edicola rassegna stampa di questa mattina. Vi ringraziamo quindi della cortese attenzione e vi invitiamo a continuare a seguire i nostri programmi. Grazie e buongiorno.